Ricordate l'esempio di Napster, abbiamo detto da quando esiste internet, bene o male, tutti i beni digitali sono infiniti. Tasto destro col mouse, copia, incolla, lo mando a Gianluca, Eugenio, a tutti quanti, quindi non c'è unicità, non c'è scarsità. Bitcoin, che sono solo 21 milioni, ha creato la scarsità nel digitale. Wow, rivoluzione enorme. Gli NFT per la prima volta sono riusciti a creare l'unicità nel digitale. Quel bene lì è unicamente riconducibile a una persona. Come? Può tornare la slide. Può sembrare paradossale, ma nella forma più stretta, diciamo così, più abbreviata, uno smart contract con gli NFT inizia così. C'è una tabella con due colonne e delle righe. Su una riga vedo token numero NFT numero 1, NFT numero 2 e vedo a fianco il proprietario. C'è una, immaginate Excel, quindi c'è una scella dove là dentro, non c'è scritto Diego De Simone, questo l'abbiamo imparato dalle puntate precedenti, c'è l'indirizzo pubblico del wallet di Diego De Simone, casomai, ed è pseudo anonimo, perché non tutti sanno che quello lì è il mio wallet. Per cui, NFT numero 1, c'è l'indirizzo mio e a vita rimane, perché abbiamo detto che è scritto in blockchain, che è immutabile, e a vita chiunque, anche adesso, qualcuno può andare a fare lo scan, cercare e vedere che effettivamente è il mio. Ma allora quando vendo l'NFT cosa succede? Succede semplicemente che acquisisco il diritto di sostituire il mio indirizzo pubblico, chiamiamolo Liban per capirci, lo sostituisco in quella cella lì, per cui se Eugenio compra l'NFT numero 1 perché glielo vendo io, succede che il suo indirizzo pubblico va a sostituire il mio in quella cella. Grazie a tutti.